Musica Musica Torna la politica, torna l'appuntamento con Spazio Libero qui su Teleuniverso, il contenitore in cui andiamo ad analizzare i momenti politici del territorio in un momento molto particolare che è quello che ci sta proiettando verso le prossime elezioni amministrative ed europee in questo caso parliamo delle amministrative, parliamo delle comunali a Cassino, buonasera, ben trovato Sindaco Enzo Salera Buonasera Allora Sindaco, oggi giochiamo in casa sua tra virgolette, non perché parliamo del Comune di Cassino ma perché parliamo di numeri, di bilanci Allora, c'è stata l'approvazione del consuntivo, diciamo che lei quando era arrivato in Comune a Cassino la situazione dei conti era un po' diversa rispetto a quella presente oggi e quella che avete certificato nella seduta di martedì sera Che bilancio è stato? Ma un bilancio straordinario da record, non lo dico perché appunto per vantarmi di un lavoro svolto in questi cinque anni ma i numeri sono numeri, i numeri hanno la testa dura Noi siamo entrati in Comune di Cassino con Comune in dissesto e che il passaggio, il fondo cassa che avevamo dal commissario straordinario che era un fondo corrente, non superava i 5 milioni di euro Oggi siamo arrivati a 30 milioni di euro ma soprattutto abbiamo raggiunto un risultato di amministrazione che è un vero e proprio record assoluto per il Comune di Cassino ma per tanti comuni della stessa grandezza Ma io ho fatto 5 anni l'assessore al bilancio mi occupo di queste materie da tanti anni perché lo faccio per motivi professionali ma è un comune a un risultato di amministrazione in un anno con un consuntivo di 43 milioni di euro Solitamente si approvavano consuntivi con qualche centinaia di migliaia di euro massimo un milione di euro, noi siamo arrivati a 43 milioni di euro È vero che la maggior parte di quelle somme sono delle somme accantonate e vincolate però è un risultato straordinario Se io penso che nel 2011 da assessore al bilancio noi gestivamo il bilancio comunale con un'anticipazione di cassa che a volte superava i 10 milioni di euro Noi avevamo un fido bancario su cui pagavamo gli interessi Le anticipazioni di cassa sono queste così come le imprese hanno i fidi bancari i comuni hanno delle anticipazioni di cassa che superavano i 10 milioni di euro Arrivò nel 2014 una nuova dirigente che è anche l'attuale dirigente dei servizi finanziari che veniva da un piccolo comune e mi disse Assessore io non ho mai firmato un mandato mi viene la pelle d'oca a firmare un mandato con un'anticipazione di 10 milioni di euro e oggi noi abbiamo anticipazioni zero quindi è stato raggiunto un risultato enorme ma soprattutto poi il risanamento dei conti si vedono da altri indicatori i bilanci dei comuni devono essere sempre in equilibrio e anche in passato sono stati in equilibrio anche se gli equilibri sono stati creati artatamente oggi noi abbiamo un bilancio che sostiene fortemente e complessivamente le uscite dalle entrate ci sono degli avanzi rispetto cioè le uscite sono minori delle entrate e abbiamo un sistema di pagamenti come indicatore della tempestività di pagamenti il comune di Cassina ha una media di 14 giorni quando in passato si aspettavano mesi se non addirittura anni le imprese e i fornitori per essere pagati ecco questi indicatori sono indicatori di un bilancio straordinario di un risanamento dei conti che è avvenuto attraverso un grosso sacrificio ma soprattutto che ci ha portato a un grande risultato Allora la domanda sorge spontanea come avete fatto? Che cosa è? Qual è stata la ricetta? Che cosa ha permesso al comune? Perché non è che stiamo parlando di un bilancio che era in condizioni normali e è salito ad un certo livello qui parliamo quasi degli antipodi perché non è che ci siano comuni messi tanto meglio di Cassino a livello, a parte Portofino penso che abbia delle entrate diverse Noi ci siamo trovati un comune in un dissesto finanziario che è stato dichiarato nel 2018 io ero un consiglio di opposizione esiste ancora in medio un medio di quel drammatico consiglio comunale dove io ho preso l'intero spazio ero capogruppo ai capigruppo spettano 15 minuti di un primo intervento e poi 15 minuti di repliche io ho chiesto al presidente del consiglio per intero i 30 minuti per appunto contestare attraverso una serie di punti la dichiarazione di dissesto di cui su alcuni aspetti sono ancora fortemente convinto e questo ti pone dei vincoli importanti da un punto di vista della spesa intanto hai dei commissari che sono lì e che gestiscono tutta la massa passiva ma soprattutto gestiscono anche tutte le tue entrate straordinarie i residui attivi devono essere portati e consegnati a loro e questo ci ha portato a dover gestire un bilancio che aveva pochissimi spazi per i servizi però abbiamo cercato di gestirli con la massima oculatezza quindi i servizi essenziali non potevamo fare cose straordinarie anche attraverso un percorso da una parte nella corretta gestione della spesa dall'altra parte in un'attenta gestione delle entrate attraverso anche un'azione di lotta all'evasione importante sui tributi comunali ci ha portato da una parte ad ottenere dei buoni risultati sul bilancio dall'altra per esempio sulla tassazione sulla tari che è la tassa sui rifiuti solidi urbani noi abbiamo avuto nel corso di cinque anni una discesa costante anche se di poco nonostante l'aumento del costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti abbiamo avuto una riduzione costante in questi cinque anni grazie ad un'attenzione applicando un principio fondamentale che se tutti pagano le tasse pagheremo tutti meno tasse ecco applicando questo principio al comune di Cassino siamo riusciti ad abbattere quella tassazione si muove la città questo è il claim che voi avete scelto per la vostra campagna elettorale una campagna elettorale che è stata aperta lunedì sera si è mossa la città per Enzo Salera e per il suo gruppo? ma non lo diciamo noi lo dicono le tante persone che vivono in una città di Cassino e che ultimamente il centro di Cassino è diventato un luogo di attrazione per tanti cittadini che vengono dai comuni limitrofi dalla provincia io una sera ho incontrato ero nell'area pedonale sono stato fermato da due coppie di Frosinone che avevano dei bambini e mi chiesero se conoscevo il sindaco di Frosinone se potevo chiedergli di fare la stessa cosa su via Aldomoro la mattina successiva insomma per scherzo ho chiamato all'amico Riccardo Mastrangeli raccontando di questa cosa perché appunto siamo diventati un centro attrattivo si muove la città è un fatto evidente sotto gli occhi di tutti per le opere che abbiamo realizzato mai sono state messe in cantiere tante opere nel corso degli 80 anni certo abbiamo avuto anche la fortuna di invocare il periodo in cui c'erano i fondi PNRR ma anche in passato ci sono stati fondi importanti nel comune di Cassino però sono stati gestiti mali alcuni addirittura non sono stati gestiti c'è noi quest'anno porteremo a termine l'ultima rada del pagamento dei famosi Boc che fu un finanziamento di 10 milioni di euro del 2004 per 20 anni hanno gravato sulle casse comunali che dovevano servire a realizzare determinate opere di quell'opera non c'è nessuna traccia abbiamo due minuti di tempo questo bilancio approvato martedì sera che prospettive può dare alla città in futuro da grandi prospettive l'importante bisogna continuare a saperlo maneggiare con cura questo bilancio quindi io ho detto questo ai miei assessori ai miei consigli comunali se vinciamo le elezioni per 3-4 mesi non farò il sindaco ma farò esclusivamente l'assessore al bilancio perché bisogna riorganizzare adesso un nuovo bilancio sfruttando per bene quegli elementi che emergono dal consuntivo 2023 mettendo attraverso una ristrutturazione completa il bilancio comunale indirizzando al meglio quelle risorse e per fare questo c'è bisogno di una buona competenza bisogno di tanta passione quella che abbiamo messo in 5 anni nell'amministrare Cassino per cui si aprono delle grandi prospettive le carenze abbiamo avuto abbiamo fatto grandi opere abbiamo però tante infrastrutture dalle strade marciapiedi Cassino che sono purtroppo in condizioni pessime da più di 20 anni ecco il momento attraverso questa riorganizzazione del bilancio e delle risorse che ci ritroveremo da qui a settembre di intervenire alcuni già progetti abbiamo già approvati per strade marciapiedi per strade periferiche ecco su queste risorse se ben gestite riusciremo a fare anche questo che sono anche questa è una priorità per la città di Cassino grazie sindaco Salera grazie a voi grazie a tutti voi a casa e noi ci vediamo sempre qui su Teleuniverso Spazio Libero per la città di Cassino